Ciao a tutti! Oggi nuovo video bendata, quindi sono tornata con la mia benda originaria perché l'altra volta nel video in cui facevamo shopping bendate su Zara l'idea di aver usato quella maglia come benda non è stata al massimo, me ne sono resa conto poi nel corso del video quindi sono tornata alla mia mitica mascherina e questo sarà uno dei miei video preferiti perché ordineremo Burger King, quindi il mio fast food preferito in assoluto, direttamente bendati perciò in pratica sarà diviso in due parti nel senso che adesso sono qui in postazione perché sennò non sapevo come fare a ordinare bendata direttamente la Burger King e poi ci metteremo in movimento quindi lasciatemi un like solo per questo perché ci faremo tipo non lo so, una cosa come 50 km ad andare, anzi di più, saranno 140 km in tutto per registrare questo video e quindi adesso vediamo cosa sceglie la sorte per me che devo mangiare e poi una volta che abbiamo tutto l'elenco delle cose ci spostiamo in macchina e andiamo al Burger Drive che non so se si chiama così, ogni volta ho dei problemi con questa cosa però insomma facciamo una sorta di Mac Drive e poi mangiamo insieme tutto quello che adesso sceglierò bendata ho già caldo solo a vedere questa mascherina però voi non fateci caso come sempre e adesso ci posizioniamo su prodotti direi ok e in teoria ok qui ci sono tutti i menù carne, pollo, pesce ok noi partiamo da... visto che di solito mangio il pollo direi che questa volta stiamo sulla carne ci bendiamo, ci posizioniamo qua in mezzo e andiamo a vedere cosa devo mangiare oggi sono curiosissima anche perché del Burger King mi sa che davvero mangio sempre il pollo andiamo un po' così e ci fermiamo qui cosa ho selezionato? Angry Whopper oh mamma sembra qualcosa di gigante cosa c'è dentro? Un tocco di piccante al famoso Whopper però io volevo sapere che cosa contiene, non i valori nutrizionali ma proprio come è fatto sembrerebbe pomodoro, insalata, maionese, questo non capisco cosa sia, sembrano patatine cosa lo rende speciale? Carne alla griglia, pomodoro a fette, maionese, quello che avevo detto ketchup, mmmm, e poi lattuga e formaggio ok no, non dice che cosa c'è dentro ma com'è possibile? vabbè, allora questo qui è il primo panino che devo mangiare oggi è veramente gigante e mi sa che ci sono anche i cetrioli cosa che non amo tantissimo nei panini però va bene la sorte ha scelto così torniamo ai prodotti e vediamo cos'altro c'è andrei sulla sezione snack e vediamo se ci sono, sì, ci sono tantissime cose andiamo dove ci fermeremo? dove ci fermeremo? di snack vorrei prenderne due nel caso qua cosa ho selezionato? il nulla cosmico perfetto, riproviamo ero andata troppo in giù ci fermiamo qui patatine fritte, non ci credo cioè, fantastica questa cosa allora, le nostre patatine king quindi quelle giganti perfetto, sono le mie preferite guardate qui cosa c'era il crispy chicken va bene oggi non si può mangiare va bene patatine grandi cioè, è andata benissimo finora torniamo indietro al menu e andiamo sempre negli snack che ve l'ho detto volevo prenderne due e ci siamo pronti via andiamo qui andiamo qui torniamo un po' su qui non ho preso niente va bene non so cosa fa ah no, forse ho preso qualcosa no, perché leggevo prosciutto ah, ma perché sono andata troppo giù ok devo stare più rotante in questa sezione tipo così ruotiamo ruotiamo anche in senso opposto e ci fermiamo qui cosa le salse va bene ho selezionato le salse prenderò la maionese su questo non ci piove però vediamo se riusciamo a selezionare anche qualcos'altro tipo io vorrei tantissimo questi uuuuh vediamo se riusciamo a selezionarli allora andiamo ancora andiamo ancora dai 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 qui ok ho preso questi va bene siamo qua vicino quindi questi sarebbero che non li ho mai assaggiati Philadelphia Cheese Ball avrei preferito lo sapete benissimo gli altri quindi quelli con dentro il camembert però va bene prendiamo i Philadelphia Cheese Ball così è anche la volta che li assaggio ma sì bevande e caffè incrociamo le dita per l'acqua perché ho già tantissime altre cose molto pesanti secondo me visto il caldo che fa tanana 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 ci fermiamo qui ok sono sulla Sprite fantastico è tantissimo tra l'altro che non bevo Sprite nel male è andata benissimo l'importante era che non uscisse la Coca Cola perché sapete che io proprio non ne bevo e quindi avrei fatto realmente fatica però l'unica al mondo ma a me proprio non piace a questo punto direi che potremmo tornare sempre ai prodotti e vedere magari di prendere anche un Defer poi vedo sul momento nel caso rifacciamo il drive intanto vediamo cosa ci selezionerebbe 3, 2, 1 via ruotiamo 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 ancora un pochino ancora un pochino e ci fermiamo qui wow sunday al caramello sapete che il caramello è una delle mie cose preferite cioè è andata benissimo anche oggi no veramente tantissima fortuna anche oggi quando devo fare questi mukbang vendata ho sempre un sacco di fortuna a parte per quanto riguarda il panino però lì me la sono un po' cercata perché sapete che io di solito prendo sempre il pollo e questa volta invece ho voluto optare per la carne quindi direi che adesso che abbiamo l'elenco di tutte le cosine che mangiamo oggi per pranzo ci mettiamo in macchina e raggiungiamo il primo Burger King utile andiamo e voilà appena arrivata al Burger King di Settimo Torinese andiamo a fare il drive un hangy whopper menù grande con la Sprite senza ghiaccio ok con la Sprite senza ghiaccio e poi i Philadelphia Cheese Ball i Philadelphia Cheese Ball sono pure produzione non ne faccio più ok allora i quelli al formaggio si esatto grazie a posto grazie mille ok grazie no vabbè i Philadelphia Ball sono fuori produzione quindi adesso non so cosa ho ordinato perché me l'ha chiesto velocissimo io dovevo dire french bites ma mi sa che mi ha dato i chili bites che non ho mai assaggiato ma magari mi piaceranno vabbè ritiriamo l'ordine e poi capiamo dove posizionarci a mangiare e voilà ordine fatto mi sa che questa volta ho combinato un po' di casini e infatti si stava anche rovesciando perfetto tutta la Sprite che avrà bagnato le cose fantastico no vabbè si è bagnato tutto che disastro oggi che disastro ha bagnato anche tutte le patatine no cioè ma è un epic fail ecco l'unica cosa positiva ci sono i miei french bites aspettate che ne mangio già subito uno perché sono affamatissima oggi poi tra il viaggio e tutto che peccato per la cosa della Sprite non so ho fatto due curve perché sarebbe stato impossibile mangiare lì nel senso che c'era un sacco di gente un sacco di musica quindi ho cercato di spostarmi evidentemente ho fatto una curva troppo forte e ho fatto il danno è sempre la folita se lo faccio casini ancora prima di iniziare il video tra l'altro mi ero portata all'elastico così mangiamo con più calma guardate i tovaglioli in che stato sono la vedo malissimo oggi però vabbè recuperiamo la nostra Sprite è una vita ma una vita vera che non bevo la Sprite e adesso effettivamente sentendola capisco perché si stava rovesciando non è proprio il mio gusto preferito ma va bene ho anche dimenticato di prendere la maionese invece il sunday non l'ho preso perché vediamo se è finita tutta questa roba avrò ancora fame andiamo a prenderlo se no era uno spreco e poi se no si scioglieva come l'altra volta si dico che non mi piace ma sto continuando a berla è vero adesso io spero che un po' delle mie patatine siano salve ma mi sembra assolutamente di sì patatine del Burger King venite a me senza maionese però non è mai la stessa cosa buone ma gli manca quel tocco in più mamma mia adoro questi video andrò avanti a ripetere all'infinito però sono veramente fantastici cioè non si può dire diversamente l'unica cosa che un po' mi preoccupa è il panino e per quello che non lo sto ancora assaggiando neanche aprendo come mi mancavano questi sono la cosa più buona che abbiano inventato secondo me in generale per quanto riguarda il cibo tra l'altro ho visto che proprio di fianco che proprio di fianco al Burger King c'è il Roadhouse che io sinceramente ignoravo totalmente nel senso che non ci ho mai mangiato fatemi sapere se è buono e se potrebbe essere una buona idea fare un altro video del genere anche con il Roadhouse visto che non l'ho mai provato potrebbe essere un'occasione so che bisogna fare anche quello del KFC me lo ricordo assolutamente però magari visto che è comunque non vicinissimo però l'abbiamo fatto oggi per il Burger King si può rifare anche un'altra volta per il Roadhouse se merita se non merita ditemelo comunque penso proprio che sia giunto il momento di capire con cosa è fatto questo panino che appunto è l'Hangry Whopper mi sono anche dimenticata di dirgli senza pomodoro ve l'ho detto che questo mukbang è un totale disastro anche se sono stata abbastanza fortunata invece per quanto riguarda le cose bendate però poi mi è caduta la sprite ho fatto casini con l'ordine hanno mandato fuori produzione i Philadelphia Balls che voglio dire cioè dovevo prenderli io oggi me li hanno mandati fuori produzione magari tipo da ieri se andiamo a guardare comunque il panino è qualcosa di gigante questa è insalata è bello bello consistente però mi sa che contiene proprio cose che non mi fanno impazzire ho visto dei pezzi di cipolla che sono qualcosa di enorme veramente vabbè proviamo a dare un morso è gigante niente male il primo morso no no aspettate che cerco di ingegnarmi a togliere il pomodoro ok la cipolla la lasciamo è buonissimo adesso io spero che sia a fuoco ma è veramente buono anche se c'è il ketchup super super promosso si devo pulirmi la bocca solo che ovviamente tutti i tovaglioli e anche le mani potevo dotarmi di fazzolettini ok ho le mie solite salviettine quelle igienizzanti cercando di non fare danni perché ho le mani che sono messe peggio della bocca usiamo queste per pulirci le mani e poi sarà sicuramente la volta in cui non avrò i fazzoletti sono sicura adesso guardiamo ma avrò la borsa completamente vuota no ok ho trovato dei pezzettini di scottex quindi posso usare quelli cioè non so cosa ci facciano in borsa la mia borsa sembra quella di Mary Poppins però l'importante è che ci siano e che facciano quello che devono fare aspettate che apro un po' al finestino sennò c'è da morire veramente perché poi non sono riuscita a trovare ovviamente neanche mezzo posto all'ombra e soprattutto spero di essere a fuoco e che stiate vedendo qualcosa perché per come è cominciato diciamo proprio che non stia procedendo nei migliori dei modi sicuramente ce l'avessimo più vicino riuscire a mangiare a casa sarebbe stato il massimo però vabbè così è pezzo di cipolla gigante avrò un alito fantastico per tutto il resto della giornata sto anche perdendo ketchup ottimo comunque volevo approfittarne visto che questo secondo me sarà l'ultimo video sì per forza questo sarà l'ultimo video del mese di agosto imprevisti permettendo dovrei riuscire tipo a editarlo già oggi o comunque cioè dovrebbe uscire domani in teoria tanti capelli stanno andando a quel paese va bene appunto visto che è l'ultimo video di agosto fatemi sapere qui sotto con un commento come preferite che ci organizziamo per i video di settembre perché sinceramente non sono sicura di riuscire a postare tutti tutti i giorni quindi mi diventa difficile fare come avevo fatto a giugno che poi è stato l'unico mese in cui sono riuscita a postare su 30 giorni 30 video forse 28 però visto che quelli come ad agosto quindi 4-5 video a settimana riesco quasi sempre a registrarli e quasi sempre a postarli vabbè salvo imprevisti che poi tanto vi aggiorno nelle stories di Instagram quindi se vi va fatemi sapere che giorni preferite che escono i video visto che adesso si torna un po' tutti alla routine quindi si torna a scuola a lavoro insomma le vacanze sono ormai finite e per me quando finisce agosto anche se adoro settembre perché è il mese del mio compleanno poi è un mese di rinascita secondo me però appunto le vacanze ormai sono finite quindi si torna un po' alla routine e mi interessava capire questa cosa cioè capire effettivamente quando preferite che scani video non fateci caso come sempre non lo so per dire il lunedì perché finora riuscite a postarli sempre il lunedì il martedì il giovedì e il venerdì però non fatemi sapere magari volete non lo so che li posto il lunedì e poi il mercoledì e poi il sabato e poi la domenica una cosa del genere insomma in modo che ci organizziamo giuro che si è fermata una betoniera proprio di fronte a noi che sta guardando la strada credo sì o comunque sta ma no sta mangiando fantastico ho avuto la mia stessa idea però non credo abbia intenzione di spegnere il camion va bene adesso ci chiudiamo dentro anche noi perché se no non riuscite neanche a sentirmi e attiviamo quella fantastica cosa che un genio ha inventato e si chiama aria condizionata intanto abbiamo un po' finito di mangiare quindi è andata benissimo così ecco sono un po' dubbiosa sul sunday al caramello non so proprio se riuscirò a mandare giù anche quello però il resto tantissima roba neanche finito di masticare ho già in mano che cosa mangiare dopo sono incredibili lo so mi ero veramente affamata vi viaggio poi io patisco tantissimo la mattina svegliandomi molto presto faccio anche colazione molto presto quindi quando poi è l'ora di pranzo considerate che adesso è l'una e mezza perché è una cosa e l'altra è stata abbastanza lunga quando viene l'ora di pranzo ho proprio tanta tanta fame non lo faccio apposta per quello nei mukbang mi vedete mangiare come se non mangiassi da giorni ma perché ho veramente questa fame assurda quando è l'ora di pranzo magari sono l'unica però arrivata già alle undici e mezza mezzogiorno io mangerei qualunque cosa se vi va comunque la sprite bocciata sappiatelo non la prenderò mai per vita mia fatemi almeno scrivere le mie mitiche patatine fatemi sapere anche il tuo tipologia di video preferireste vedere visto che appunto settembre non lo so è un mese che a me dà moltissima ispirazione un po' perché c'è il mio compleanno un po' perché appunto l'autunno in generale anche se dovrebbe essere una stagione addormentata un po' strana a me piace tanto perché trovo che sia una stagione di rinascita quindi confrontiamoci anche sulla questione della tipologia di video perché io ne ho in mente tanti infatti ogni volta che faccio magari una tipologia un po' diversa vi chiedo cosa preferireste vedere o comunque se vi piace per sapere se continuare a farla però insomma mi farebbe proprio ogni tanto piacere appunto avere non lo so a comparere vostro un'idea di cosa vi piace vedere a parte i vlog che sinceramente riuscirò a farli ma ho anche diminuito volontariamente un po' per tutte le storie che sapete a memoria c'era un ape che voleva entrare ma non c'è riuscita comunque i vlog avevo poi deciso di diminuire la quantità per tanti altri motivi che non sto a ripetere che ormai ho ripetuto fino alla nausea da gennaio però appunto mi avevano anche un pochino lasciata perplesso ultimamente perché avendo tante cose da fare comunque avevo le giornate super impegnate e quindi venivano sempre molto simili l'uno all'altro e non lo so è vero che anche a me fanno compagnia nel senso che mi piace molto vederli a parte registrarli che a me piace però mi sembrava di diventare noiosa è pesante e non lo so di starvi un po' cioè non di starvi sulle palle però cioè oddio non mi viene la parola però di essere petulante quindi ho più idee e più stimoli a fare altri video tipo 24 ore in un determinato modo piuttosto che in un altro tipo mi piacerebbe fare vivo 24 ore come il mio sims o un'altra versione di vivo 24 ore incinta cose del genere le trovo più stimolanti che mi portano anche a fare cose un po' diverse durante la giornata e quindi a me mi piacerebbe continuare su questa strada però appunto approfitto di questo video proprio per chiedervi cosa ne pensate e di farvi sapere insomma usiamo questo video anche per quello ma soprattutto fatemi sapere di sto Rodaos che adesso che l'ho visto mi ispirava parecchio le patatine anche se sono quelle grandi sono sempre troppo poche secondo me fatemi però anche voi io trovo che quelle del McDonald's siano molto di più quelle grandi queste qui assomigliano alle medie più o meno del McDonald's ma nel mentre il signore con il tramion anzi con la betoniera è andato via beh però si sta meglio così con un pochino di aria condizionata perché era dura se no io a questo punto dubito che avrò voglia di Sunday al caramello però già che sono venuta fino qui magari faccio un diretto da Maison du Monde e devo prendere due cosine per la casa poi tanto anche su questo argomento vi aggiorno non è il momento di aggiornarvi ora e poi magari finito il diretto da Maison du Monde riaccendo la videocamera e andiamo a prendere il Sunday al caramello anche se devo dire che ho abbastanza dato e con questa temperatura sì ho fame però ne ho relativamente meno del previsto sono molto preoccupata se farò ancora il mukbang quest'inverno come mangerò cioè vi stupirete veramente se già adesso mi dite che sono qualcosa di tremendo in quelli d'inverno quando la mia fame è aumentata dal freddo cioè veramente vi sconvolgerete vi scandalizzerete e probabilmente in un secondo avrò perso tutti gli iscritti che avevo perché sono veramente qualcosa di assurdo in inverno io ma va bene non mi soffermerei adesso visto che ancora non fa così freddo direi che anche oggi ci ho dato a parlare come sempre però sapete quanto adoro questi video infatti spero di farne tantissimi altri odio un camion gigante ok è passato va bene dicevo che spero di farne tantissimi altri adesso appunto torno verso il Burger King così faccio un giro da Maison du Monde fatemi sapere come sempre tutte le migliaia di cose che adesso non mi ricordo più e che vi ho chiesto man mano con un commento qui sotto io in ogni caso vi mando un grosso bacio e ci vediamo o domani o lunedì con il nuovo video ciao è venuto un bacio assurdo tra l'altro boh ho fatto un bacio Grazie.